vi spiego dove sono stato in queste ultime ore da quando è successo appunto il fatto la scomparsa dei simoncelli e questo perché un conto è scrivere il pezzo un conto è rendere conto a voi che siete 26.000 qui iscritti più lettori di Mr. Alves quindi non siete pochi poi insomma gli utenti attivi sono comunque tanti ho ricevuto tante mail, tanti sms, tanti messaggi ero al Mugello per trasmissione pirata quindi i reality che facciamo con Polita al Civ hanno in luce lontani quindi da quanto è successo e contemporaneamente vicinissimi al cuore di chi sta facendo anche se ad altri livelli insomma lo stesso lavoro, la stessa cosa finito il warm up che fra l'altro con Polita neanche abbiamo fatto perché era troppo freddo e abbiamo visto la partenza e l'incidente insomma è inutile dire che chi è del mestiere ha capito immediatamente quello che è successo insomma l'irreparabilità del danno insomma che poi non abbiamo voluto capire e abbiamo fatto finta di non capire quello è un altro discorso ecco come l'abbiamo saputo noi questa cosa ci ha cambiato la giornata e anche la vita la giornata poi era anche quella del mio compleanno quindi immaginate come posso averlo passato eravamo anche lì, anche noi lì per fare le corse quindi è stata ancora più dura è stato un monito ancora più forte per tutti quanti per me che le riprendevo e facevo la trasmissione per i piloti che dovevano correre la gara per i tecnici, tutti gli amici insomma abbiamo fatto come tutti il nostro dovere ognuno ha fatto la sua parte noi abbiamo fatto la trasmissione i ragazzi hanno fatto la corsa e poi tutti a casa muti niente festa ovviamente niente niente podi, niente io sto male da ieri non sono voluto tornare a casa a Roma e non ho voluto guidare ho preso un hotel a Scarperia con mia moglie siamo stati lì e non ho voluto guidare perché a me guidare piace ma durante la guida penso mi invento le cose che devo fare che sono quelle che poi leggete quasi sempre cazzate mi invento le cose che devo dire e quindi io non ho voluto pensare sono rimasto al Mugello la sera ho incontrato un amico fotografo a cena per caso abbiamo parlato di tutto e di più poi siamo andati a dormire in hotel e sono stato male e mi sono svegliato questa mattina con la febbre insomma prima volta sto male ancora adesso perché mi fa male quello che non capisco io che sono un cinico un razionale ma che nello stesso tempo agisco di impulso e si vede il peggio che possa esistere un razionale che agisce di impulso perché se ne è andato un pilota un ragazzo che non era fra quelli che avrei elencato fra i miei preferiti ma che ho sempre considerato necessario uno che forse mi faceva pensare perché somigliava tantissimo al modo che ho di fare io così schietto e autolesionistico aveva un candore che io non ho magari che lo portava a fare cose che potevi non condividere ma che dovevi rispettare per forza e poi io non sopporto che sia morto per l'inevitabile cioè non una via di fuga sbagliata un problema meccanico un errore troppo grave ma con un incidente il più vicino possibile ad un incidente stradale che è quello che noi motociclisti possiamo avere tutti anche quelli che non fanno le corse tu cadi uno ti travolge ciao come è morto anche Tomi Zao e come è morta una ragazza italiana che magari nessuno conosce che si chiamava Beatrice Bossini ecco i genitori io voglio molto bene perché i piloti che muoiono sono tutti uguali sia che fanno il mondiale sia che fanno un trofeo qualsiasi insomma non c'è niente che possiamo fare io odio queste cose qui odio le malattie inguaribili il caso che si accanisce l'ineluttabile sono cose che vivo anche personalmente nella mia famiglia in modo molto vicino so che deve esistere una roba così io la odio non la sopporto e scappo faccio finta di niente non l'affronto e capisco immediatamente quanto sia ingiusta alla vita perché a tanti sconsiderati va sempre tutto liscio mentre ad alcuni che sono buoni sono puri che non hanno fatto niente di male invece no e non è una questione di elettronica di professione di televisione fatta da maestrini che pensano di dover dire per forza qualcosa di intelligente di dover spiegare per forza qualche cosa a tutti tutto a tutti e finiscono invece con rendere tutto veramente disgustoso alla fine quello che conta è che è successo è che è successo ad una persona dalla mia io non ho mai visto e torno nello specifico nessuno pagare in maniera così cara così così caramente in maniera così inequivocabile così netta e senza appelli le scelte gli atteggiamenti gli errori le prese di posizioni come Simoncelli e questa cosa me lo fa diventare immediatamente simpatico cioè simpatico me lo fa amare incondizionatamente una volta per tutti non ho mai visto nessuno scontare prendersi sulle spalle tutto quanto come ha fatto lui a volte anche candidamente anche inconscientemente ma sempre tutto dal più piccolo gesto col dito al sorpasso alla scelta ad una leggerezza trasformatasi in errore mortale come quello di Domenico è per quello che ho aspettato tanto a parlare perché ho pensato che non dicendolo dentro di me stupidamente e non spiegando a voi perché non c'ero per tutte queste ore quando invece ci sono sempre anche troppo di poter esorcizzare una cosa che invece da cui invece non si può tornare indietro questa volta insomma gli è andato tutto nel peggiore dei modi l'unica volta che non avrebbe dovuto meritarselo insomma l'unica volta che non avrebbe dovuto pagare fra virgolette per qualcosa che insomma in fondo non aveva fatto ecco perché io non ci sono stato insomma cercate di comprendermi ma nello stesso tempo vi ringrazio per avermi cercato e l'unica volta e l'unica volta Grazie.